La delibera di giunta 243 del 3 ottobre 2017 con la quale l'amministrazione intende proporre una variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per l'anno 2017 desta nuove polemiche, veicola l'attenzione sulle nuove spese previste. Secondo la delibera in oggetto alcune somme del fondo di riserva possono essere usate per coprire spese definite imprevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe un grave pregiudizio dell'ente. Antonio Ruta, opinionista e blogger, ha approfondito la delibera in oggetto cercando di sviscerare quali siano le voci in oggetto. Vengono quindi aumentate di decine o addirittura centinaia di migliaia di euro alcune spese partendo dai mutui incrementati di 270.000 euro passando da iniziative di sviluppo produttivo con un fondo di ulteriori 60.000 euro. 5.000 euro in aggiunta, d'altro 8.500 già in bilancio per le spese di cancelleria e stampa. 30.000 euro da aggiungere ad altri 15.000 euro per illuminazioni artistiche e per manifestazioni. Antonio Ruta punta il dito contro le spese non necessarie perché se i mutui devono essere necessariamente coperti, dato che il mancato pagamento costituirebbe un danno per l'ente così come per il maggior costo per il funzionamento dei servizi, l'opinionista si chiede invece la necessità delle maggiori somme stanziate per il finanziamento di illuminazioni artistiche ed iniziative di sviluppo produttivo, chiedendosi con amare ironia se in questa voce generica non rientrino poi finanziamenti di sagre feste di quartiere, dietro la motivazione di voler incentivare l'offerta turistica della città. Il tutto per un totale di 175.000 euro di spese non necessarie che in un clima di predissesto con un enorme buco da coprire sembrano ancora più fuori luogo. A tuonare contro la medesima delibera di variazioni di bilancio anche Vito D'Antona. Tutto questo poi scrive Antonio Ruta alla luce delle ultime delibere della Corte dei Conti, nonostante i mancati pagamenti dei dipendenti comunali, dei dipendenti delle partecipate e dei dipendenti del settore ecologico, nonostante il mancato rispetto degli impegni con l'Ene e con gli altri gestori di servizi vari, nonostante la miriade di piccoli e grandi creditori dell'Ente in attesa di vedere pagate le loro spettanze, nonostante il disastro incombente sulla città. La Giunta e il Sindaco hanno approvato una variazione di bilancio per ingaggiare nuovi contratti di illuminazione artistica e generiche iniziative di sviluppo produttivo. L'Avvocato Ruta parla dunque di perenne campagne elettorali del Sindaco a spese della città e dei modicani.